Gian Pietro, allora l'amministrazione comunale va avanti con il progetto di abbattimento di ricostruzione successivamente del ferro di cavallo, comunque di una zona residenziale nel quartiere Rancitelli. Qual è la posizione dei consiglieri comunali del Partito Democratico di Pescara? Noi siamo molto favorevoli all'abbattimento del ferro di cavallo in quanto è un detrattore che va comunque arginato. Il problema è il nuovo progetto che è stato presentato che in realtà rischia di ricreare una situazione molto simile a quella che si vuole combattere in quanto le due palazzine, i due treni che in qualche modo verrebbero realizzati, comunque sono ancora una volta due grandi palazzi popolari che anche nella visuale rischiano di coprire il passaggio e la visuale appunto da chi passa per Viatavo. Non c'è quell'apertura al quartiere che invece è necessaria per combattere il degrado e quindi rendere più vivibile quella zona e c'è anche un altro problema che tutto il piano terra dei palazzi ad oggi non è progettato, ovvero quello che dovrebbe diventare il vero fulcro della rinascita, cioè i servizi messi in quel quartiere non sono stati progettati né si sa se e quando verranno fatti. Questo rischia di far sì che circa 8 milioni di euro siano bruciati per ricostruire una situazione del tutto simile a quella che si vuole combattere. Tanto più che c'è un altro problema, ovvero che circa metà degli alloggi popolari che verranno appunto tolti da ferro di cavallo non saranno lì ricostruiti, cioè dove verranno ricostruiti, non si sa dove, come, quando e quanti saranno costruiti. Quindi diciamo che il bilancio dell'oggi ERP di Pescara rischia di essere in deficit per questa operazione che doveva essere invece di segno opposto. Ma voi avete una proposta alternativa? Noi crediamo che il progetto che ci sono presentato andava fatto diversamente, ovviamente andavano fatti delle palazzine forse più piccole ma soprattutto andava progettato subito lo spazio sociale e quindi la riqualificazione sociale, dell'offerta sociale di quel quartiere e quindi con spazi pubblici subito messi a disposizione. Invece in questo caso vediamo che purtroppo verranno realizzati prima gli alloggi, tra l'altro anche con una scelta architettonica dubbia perché vengono anche ricreate delle nicchie che rischiano di creare ulteriori spazi senza visuale e quindi questo temiamo che possa essere una situazione che andrà a riproporre esattamente ciò contro cui tutti quanti ci battiamo.